qualcuno vorrebbe azzardare a indovinare cosa c'è all'interno quello è sicuro un molliccio molto bene signor thomas ora qualcuno sa dirmi un molliccio come è fatto nessuno lo sa i mollicci sono di muta forma assumono la forma di ciò che una particolare persona teme di più è questo che li rende così verificanti sì sì sì